Martedì 19 maggio. Ehi, se lo avessi saputo avrei fatto il pianista professionista, il manager, il sindaco, tutte quelle belinate, come dicono i miei amici da Lanterna, Fulvio, Beppe, Dedo, Roberto, Paolino, Renzo. Mi riempite di complimenti e siete tutti molto affettuosi. Mi state convincendo di aver fatto la cosa giusta per questo nostro periodo di quarantena. Vi ringrazio di cuore. E in attesa di un'altra risolutoria, conferenza stampa, magari di nuovo a Ciampino, continuiamo a farci compagnia, cari over 80, sempre pronti, e lo dico seriamente, pronti per la patria, anche passando per Macron e la Merkel. Ormai senza freni vi propongo due piccole perle anni 40, con le quali diamo il benvenuto a un over 70 della ultima ora, l'illustre eporediese Camillo. Un po' di luna e tu musica divina. Un po' di luna, come diceva Alberto Sordi, il ritmo lento del maestro Gambara. Stavolta è il maestro Ravasini, ma sempre un ritmo lento. E canta la bravissima meme Bianchi, ormai purtroppo dimenticata. Tu musica divina, invece musica di Giovanni Danzi, è successo di Rabagliati. Grazie a tutti. 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 Dormi e sogna a me solo, sogna e bacia a me solo, questa notte, mio amore, ciao, buonanotte. Sembra già di volare, di fuggire sul mare, noi due soli, mio amore, dirigo un concerto di angeli per te, insieme alle stelle, veglio i tuoi sogni sereni, ciao, buonanotte. Torneremo domani, da quei regni lontani, e più bello sarà. Grazie a tutti.